C'è un momento giusto per andare ad allestire la vetrina di Natale? In realtà sì, ed è subito, ovvero dopo il Black Friday. Dovrai infatti prevedere due allestimenti vetrina, una pre-natalizia da fare in questo momento e dove andrai ad utilizzare dei colori soft come il bianco, l'azzurro, il rosa e una seconda vetrina invece, quella natalizia, da fare invece dopo l'8 di dicembre, subito dopo l'8 di dicembre, nel quale andrai ad utilizzare una scenografia tipicamente natalizia, quindi alberi di Natale, piuttosto che una slitta con Babbo Natale o ad esempio una cassetta delle lettere con le lettere che escono fuori e utilizzando colori come l'oro, l'argento e il rosso. Quindi prevedi due allestimenti vetrina. Ultima cosa, mi raccomando, ricordati che il cliente in questo momento è alla ricerca di idee regalo, quindi è molto importante che tu vada ad allestire la tua vetrina inserendo queste idee regalo al loro interno. Seguimi per altri tips di vision e di marketing. Ciao!